Giornata politica intensa in Toscana con un vero e proprio scossone che arriva dall'assemblea dei soci di Alia Multi Utility. In realtà niente di inatteso, l'esito sancisce prima di tutto che l'acqua deve stare dentro il perimetro e ribadisce il potere dei sindaci di impostare il nuovo piano industriale. Niente di inatteso ma comunque un atto deciso anche per mettere a tacere le polemiche o meglio le posizioni espresse in questi giorni soprattutto in sede regionale. Prima per bocca dell'assessore all'ambiente. Io la gara a doppio oggetto oggi la fermerei. Oggi forse saltato l'obiettivo della votazione in borsa ci potremmo prendere un pochino di tempo in più per riallineare una posizione comune. E poi ribadite dal presidente della Toscana Gianni che rivendica anche un ruolo regionale nella partita. I sindaci hanno la proprietà delle quote e la società ma accanto ai sindaci vi è un ruolo che è quello della regione che per competenza interviene sulla legislazione che poi è da base a tutto quello che è il sistema. Rispetto a quello che è un processo che sta andando avanti io ritengo che abbia ragione l'assessore Monni quando dice che è bene farlo bene e conseguentemente se c'è un anno di proroga non fa male a nessuno ci consente di impostare bene quello che è il percorso delle gare. Acqua dentro acqua fuori è in realtà il sale della questione sia economica il servizio idrico è quello più remunerativo sia politica al punto che nello schema complesso in cui Monni e Gianni spingono verso la proroga Republiacqua si inserisce anche la Lega. La proposta di Monni è sensata dice il consigliere regionale Baldini. La Lega scrive avanzerà una mozione affinché l'organismo che rappresenta i Toscani che ha la competenza formale a legiferare in merito alla definizione della governance sul sistema idrico regionale sia coinvolto e si esprima politicamente senza rimanere succube delle direttive esterne dei soliti sindaci della referentina. Il PD regionale intanto usa ancora una volta i toni conciliatori anche se il segretario Fossi esprime chiara soddisfazione per l'esito dell'assemblea rivendicando anche l'aver allontanato la borsa dalle strategie dell'ente anche se in realtà il superamento vero e proprio non c'è stato tanto che il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi che guida il drappello dei dissidenti critica l'occasione persa per fare chiarezza con un no definitivo alla borsa. Plaude dunque il PD regionale ma ancora di più il sindaco Nardella che insieme a Biffoni e Barnini la multi utility la ideò anni e anni fa. È un ottimo segnale di chiarimento e rasserenamento del clima scrive in merito all'esito dell'assemblea. Questo consolidamento prosegue che tiene conto sul piano politico delle sollecitazioni del PD toscano servirà a dare alla società gli strumenti economici e finanziari per investire sulle reti, sull'efficientamento dei servizi, sul contenimento del costo delle bollette. Isolata almeno per il momento la regione che però ha dalla sua gli aspetti legislativi e che su questa partita tenterà di costruire anche le alleanze modello Campolargo in vista della prossima tornata elettorale.